La prova centrale, un miglio per tre anni, nove concorrenti al via, Renu Caferme, Remember Me SM, Rebeldia, Rublo dei Greppi, Roger Opie, Rolex Denny, Rasti Capari in seconda, Revenge VF e Rochelle, la rottura di Rolex Denny. Sbaglia anche Rebeldia, la macchina stacca, molto veloce Rublo dei Greppi all'attacco di Renu Caferme, Remember Me, Renu Caferme rientra a Rublo, Remember si accoda, poi Revenge VF 200 iniziali in 14 con la rottura di Remember Me SM, mentre Rublo dei Greppi insiste, ottiene strada da Renu Caferme, Revenge VF in terza posizione, poi Rochelle, Roger Opie, Rasti Capari, più indietro Rebeldia Rimessa e Rolex Denny. Intanto si è ripreso anche Remember Me, mentre Rublo dei Greppi sfila su Renu Caferme, che ci mette un po' però per rallentare, e adesso gli 800 vanno via in 45, avanza Rochelle, Renu Caferme l'anticipa, in corda c'è Revenge VF, penultima curva con Rublo al comando, Renu Caferme all'esterno, poi Revenge, Renu Caferme che agli 800 in 1.2 torna al comando dopo 900, scarsi, via. All'esterno resta scoperta Rochelle, poi Revenge VF e Roger Opie, Remember Me SM, Rasti Capari, primo chilometro per Renu Caferme, in 1.17 rublo di rincalzo, all'argo Rochelle, la scia di Rochelle, Roger Opie, mancano 400 metri al termine, Revenge, Renu Caferme al comando, Rochelle che attacca, poi Rublo e Roger, Revenge e Rasti, ancora Remember Me SM, Rochelle che si fa più insidiosa nella sua offensiva su Renu Caferme che cerca la difesa, attacca ancora Rochelle e sembra poter prendere la meglio, la segue Rochelle Opie, poi alla ricerca di uno spazio anche Rublo dei Reppi, Rochelle è passata, Rochelle viene a vincere ancora, Rochelle per il secondo, Rublo in linea con Roger, poi Renu Caferme, 2-3 e mezzo, 17 e spiccioli il riferimento dovrebbe essere, la vittoria ancora una volta per la saura elegantissima Rochelle, Sandro Capenti in salchi, Sandro Capenti al training, i colori della scuderia Overture, la quota al totalizzatore di 9,02.